Siamo con Kiki Bertens, traduce da un'altra grandissima vittoria, 6-4, 6-1, qui a quarta di finale. Un'altra vittoria per te, 6-4, 6-1, è stato più facile, è stato più facile rispetto a ieri sera. Sì, ieri è stato un match molto lungo, sono molto freddo, ma oggi mi sento buono, mi sento buono, è stato buono, è buono, è buono oggi. Nonostante questo, lei oggi si sentiva molto bene, ha iniziato a servire molto bene, e quindi il risultato chiaramente si è visto. Solo il servizio o un altro segreto per il tuo vittoria? Solo il servizio o qualche altro segreto che ci vuole dire? Sì, i miei servizi e i miei figli, sono uno per ieri sera, quindi sì, è il mio primo, quindi sì. Detto il servizio è anche il suo dritto, insomma, ed è stato molto facile per te. Senza il semifinale adesso, nel prossimo match troverai Anna Floris, cosa ti aspetti da questa partita? Sì, ha detto che non conosce molto bene Anna Floris, però chiaramente si immagina che sarà un match molto duro, e quindi vuole continuare a giocare il suo miglior tennis, come oggi, per poter arrivare in finale. Grazie mille ancora e complimenti. Congratulations, thank you. Thank you. Bye.